quello di cui invece voglio parlare più nel dettaglio è questo se noi andiamo nei dettagli praticamente delle multi ora questo è l'evento di c'è questo è praticamente l'evento di venti scusate il gioco di parole ma non posso fare altrimenti fatto anche la rima bene dove praticamente abbiamo la possibilità di avere un 50 per cento di drop di ottenere venti e il 50 per cento di ottenere una di queste quattro stelle quello che ho diciamo chiarito con gli sviluppatori di gioco e che ho chiarito anche tramite informazioni personali è il fatto che praticamente le pool come potete vedere hanno la probabilità di base del 5 stelle del dello 0,6 per cento ok però che man mano si vanno a consolidare nel tempo garantendo la probabilità fino a un massimo dell'1,6 per cento quindi man mano che noi puliamo abbiamo la possibilità di avere una una possibilità massima dell'1,6 per cento qualora questo 1,6 per cento non dovesse bastare abbiamo la garantita di 5 stelle dopo 90 tentativi questi 90 tentativi ragazzi dovete sapere che valgono anche con le singole pool quindi non è obbligatorio fare sempre le multisummon quindi anche se voi andate diretti a singole quindi andate sparando singole dopo singole se voi raggiungete la cifra massima di 90 tentativi otterrete la vostra 5 stelle quindi questa già è una cosa ottima ovvero il fatto che praticamente non siete obbligati ad accumulare tutte le gemme per fare le 10 quindi le multisummon da 10 ma potete tranquillamente andare giù di singole incrementare il praticamente il raggiungimento dell'1,6 per cento che il diciamo il massimo tetto che si può ottenere per un 5 stelle che però viene resettato ogni qual volta voi otteniate un 5 stelle quindi se voi partite da una base dello 0,6 e trovate subito una 5 stelle questa percentuale si resetta se invece voi continuate a pullare fate crescere la percentuale fino a raggiungere l'1,6 per cento nel momento in cui trovate la 5 stelle praticamente si a 0 quindi ritornate nuovamente allo 0,6 per cento la cosa buona da sottolineare è che si può andare avanti soltanto di singole quindi è veramente veramente ottima come cosa per cui non abbiate paura di utilizzare le singole perché utilizzando le singole quindi le singole summon potete accumulare lo stesso il vostro pity un'altra delle cose belle che mi è stata confermata dagli sviluppatori del gioco è che i 90 tentativi praticamente possono essere accumulabili per quanto riguarda gli eventi ora che cosa vuol dire questo vuol dire che se noi in un qualche modo stiamo facendo che ne so 89 pullate su un banner e non troviamo il 5 stelle ci spostiamo nell'altro banner vale il pull quindi noi possiamo distribuire questi 90 tentativi in tutti i banner quindi ogni qualvolta noi arriviamo a 90 pull prendiamo assicurato un 5 stelle in qualsiasi banner noi andiamo a pullare quindi che sia un banner evento che sia un banner che sia un banner normale praticamente si ottiene il 5 stelle l'unica cosa che cambia praticamente nei banner evento come questo qua per esempio del personaggio di venti è che quando si trova un 5 stelle sia il 50 per cento di opportunità di trovare il personaggio evento quindi si può trovare o venti in questo caso o un altro personaggio io ovviamente ho trovato mona quindi non ho trovato neanche venti quindi guardate che culo però la cosa buona diciamo tra virgolette è che il secondo personaggio 5 stelle che si ottiene è sicuramente il personaggio evento quindi se io dovessi continuare a pullare su questo banner il 5 stelle che otterrò adesso visto che ho già ottenuto sarà solo ed esclusivamente venti infatti if the first five star character you win in this event wish is not the promotional character then the next five star character you win is guaranteed to be the promotional character quindi adesso se io continuo a pullare su questo banner il 5 stelle che otterrò sarà esclusivamente 20 quindi devo ottenere per forza 20 me lo danno praticamente scriptato la stessa cosa funziona per i quattro stelle i quattro stelle praticamente in questo caso abbiamo la possibilità base di vincere un quattro stelle che del 5,10 per cento che può diventare fino un 13 per cento e però ogni 10 pull abbiamo garantito un quattro stelle o superiore quindi che cosa vuol dire che possiamo vincere un quattro stelle col 13 per cento o addirittura scalando ancora le probabilità un 5 per cento quindi praticamente queste percentuali che si vanno ad aumentare qui comprendono anche i 5 stelle quindi devo dire che come diciamo come tentativo non è male quindi ogni 10 tentativi abbiamo praticamente assicurato un 4 o più stelle giustamente il 4 stelle a un 13 per cento di riuscita mentre invece praticamente le 5 stelle hanno un 1,6 per cento che però si solidifica o comunque si convalida per 90 tentativi quindi diciamo che il range di convalida è molto più vicino rispetto ai quattro stelle ecco perché si ottengono più quattro stelle rispetto ai 5 stelle perché il range comunque è molto più basso rispetto cioè il range di 5 stelle è molto più basso rispetto ai quattro ovviamente ovvio poi un'altra cosa da sottolineare è che all'interno dell'evento ogni quattro stelle che andiamo a pullare sarà il 50 per cento la possibilità di essere o barbara o fiscal o comunque xiang ling stessa cosa succede con i quattro stelle quindi se ne otteniamo un quattro stelle che non è quello del banner il secondo quarto stelle che riceveremo sarà sicuramente uno garantito del banner esistono anche le armi ovviamente all'interno di questo banner che il quattro stelle praticamente il must il masterless sagittar e poi le tre stelle che danno praticamente le stardust per 15 che poi possono essere convertite eccetera eccetera come benissimo sapete poi ottenere un 5 stelle che già sia praticamente ci permette di ottenere limit break qualora dovessimo raggiungere i massimi limit break si otterranno una conversione per i prismi che servono per scambiare i personaggi quindi questo penso che già sono tutte cose che già sappiamo i 5 stelle che sono all'interno di questo banner sono 20 con il rate up e poi tutti quanti gli altri quindi che king mona kiki jean e di look che sono presenti anche nel banner originale la differenza nel banner originale è che non c'è praticamente 20 non ci sono i personaggi quelli la praticamente evento quindi non ci sono i personaggi quelli la infitured qui come quattro stelle infitured abbiamo fiscal barbara barbara e xiang ling però possiamo trovare anche tutti quanti gli altri 4 stelle mentre invece quello che si può evincere dal banner quello normale quindi quello là dove praticamente ci sono tutti i personaggi come potete vedere questo è un banner standard che non ha nessun tempo limite non ci sono personaggi promozionali e le armi però al tempo stesso sono disponibili quindi le 5 stelle che si possono trovare qua non sono praticamente scriptate per farti ottenere quell'evento ma tu con un 5 stelle qui potresti ottenere anche un'arma 5 stelle in questo wish ogni 10 ogni 10 wish quindi ogni 10 ogni pull da 10 è garantito un 4 stelle o superiore quindi se noi facciamo le multi da 10 in questo banner conviene perché in una multi da 10 otteniamo almeno un 4 stelle sicuro e poi ovviamente anche di qualità superiore la base è la stessa quindi 5 stelle sempre 0,6 per cento che diventa 1,6 su 90 su 90 tentativi che si resettano ogni qualvolta si ottiene un 5 stelle 4 stelle per la stessa cosa e qui tra l'altro abbiamo anche le armi 5 stelle che che garantiscono praticamente le masterless saggitter masterless star glitter eccetera eccetera vabbè comunque le armi anche qua 5 stelle stessa cosa per i personaggi duplicati eccetera eccetera il banner come potete vedere ci sono personaggi che sono praticamente cinque quindi che king mona di look kiki e jean e poi tutte le armi 5 stelle che ovviamente sono presenti all'interno del banner senza nessun personaggio in rate up 4 stelle stessa identica cosa possiamo ottenere tutti i 4 stelle presenti all'interno del gioco sia come personaggi sia come armi nel banner delle armi invece la storia diciamo che suona abbastanza simile però diciamo che in questo caso abbiamo praticamente il banner dove le armi amos bow e aquila favonia sono praticamente in rate up quindi sono armi 5 stelle che praticamente sono in rate up stesso identico discorso di come funzionano anche praticamente personaggi solo che le armi cinque stelle anziché essere 0,6 per cento sono lo 0,7 e il pt praticamente dopo 80 tentativi anziché 90 poi le quattro stelle invece hanno lo stesso hanno la stessa percentuale solo che di base sono il 6 per cento quindi sono molto più alti rispetto ai personaggi e per ogni 10 tentativi è garantita una quattro stelle con un massimo del 14,5 per cento quindi pullare le armi è sicuramente più facile rispetto ai personaggi per quanto riguarda ovviamente i banner come potete vedere ci sono soltanto armi in questo banner si possono trovare solo personaggi 4 stelle e non si possono trovare personaggi 5 stelle ok quindi questa è una cosa molto importante quindi che ho pulato nel banner che costava 8 quello di 20 e quello normale sono tutti contati nei 90 allora questa è una bella domanda il banner iniziale ovvero quello scontato in realtà non dovrebbe contare quindi se tu hai fatto già due multi nel banner quello di benvenuto in realtà quelle 20 pull non dovrebbero contare contano tutte quante le altre se non hai trovato nessun 5 stelle all'interno di tutte le altre pull devi contare fondamentalmente quante ne hai fatte e poi farti un calcolo di quante te ne servono per arrivare a 90 questa è la cosa quindi questa è una cosa molto importante che effettivamente ci tenevo comunque a dire tutti quanti prima di cominciare a pullare anche perché io avendo trovato mona praticamente subito c'è con la con la prima multi che ho fatto la prima no la seconda multi che ho fatto qua da venti mi sono praticamente già bruciato il pd quindi quindi è una bella una bella rottura di palle per me allora io qua comunque avendo trovato giamona se vi faccio vedere praticamente la mia storia dei pull come potete vedere praticamente vedete i quattro stelle escono più o meno ogni 10 pull perché se io faccio qua 1 2 3 4 5 6 poi andiamo avanti 7 8 e praticamente meno uscito un quattro stelle a 9 poi altri due e un altro quattro stelle che questo vabbè è stata una casualità diciamo molto fortunata però come potete vedere dal 4 stelle poi abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 dove mi esce xianling vedete praticamente ogni 9 10 pull mi esce un quattro stelle garantito poi 1 2 3 di nuovo 4 5 e qua 6 mi è uscita mona cinque stelle però anche un quattro stelle ma questa perché era una multi vedete che l'orario è praticamente uguale perché questa è stata la seconda multi che ho fatto dove ho trovato mona quindi già avendo trovato mona cinque stelle sicuramente se dovessi trovare un cinque stelle stasera sarà sicuramente 20 al cento per cento perché già un personaggio cinque stelle lo abbiamo riscattato e non era quell'evento quindi essendo quell'evento adesso mi dovrebbe mi deve uscire per forza 20 e poi come potete vedere queste qua sono altre pull che ho fatto singolarmente dove dove prima di xianling c'era uno quindi qua questi sono 6 7 in totale 8 e 9 e mi è uscita fiscal quindi vedete ogni 10 pull è praticamente garantito che otteniamo un quattro stelle e questa comunque è una cosa molto molto buona perché ci permette di dire che ogni multi o comunque ogni 10 singole otteniamo una quattro stelle almeno abbiamo la possibilità di ottenere una quattro stelle quindi 1600 gemme fondamentalmente per ottenere una quattro stelle bene fatto questo preambolo fatto questo diciamo questa analisi in generale del banner dei banner anzi e del gioco direi che possiamo cominciare a pullare la mia storia praticamente si è conclusa ora che ho fatto una singola prima di cominciare dove praticamente ho trovato barbara quindi trovando barbara 4 stelle adesso dovrei pullare altre 10 volte per trovare tecnicamente un altro 4 stelle vediamo se effettivamente è così io ovviamente le vorrei segnare le pull mi piacerebbe anche mettere una musica da pull ma non so se effettivamente mi conviene una musica da pull anche perché dovrei utilizzare dovrei utilizzare qualche host da opera omnia anzi sapete che vi dico io metto la host che ha incorniciato i miei pool metto la host che mi ha che mi ha accompagnato da sempre nelle mie pool e chi lo sa ecco abbassiamo il volume e chi e chi mi conosce già sa quale sarà la mia musica da pull però mi devo ricordare dove l'ho messa non mi ricordo se l'avevo messa qui no oddio cosa cazzo ho aperto madonna mia quante cose ho aperto no non era qua forse era qui no non era qui no aspetta forse era qui eccola esatto la ragazza misteriosa bravi bravi vedo che già mi conoscete tra l'altro la metteremo anche domani perché domani si pulla su cadage domani domani si pulla su cadage quindi tanta roba tanta roba tanta roba allora direi che possiamo cominciare allora vi dico che comunque ho shoppato parecchio ho shoppato parecchio quindi non so vabbè lasciamo perdere non ho non ho caricato tutte le gemme in una volta così non vedete quanto ho speso così magari ci fermiamo prima no non ci sarà free pool domani domani si va direttamente di gemme e basta allora si comincia prima singola ovviamente tre stelle perché giustamente stiamo ricominciando praticamente il giro io nel frattempo voglio anche calcolare quante quante singole faccio prima di ottenere un 4 stelle quindi anche questa sempre tre stelle quindi già siamo a due al terzo già quattro stelle quindi buona a bennett limit break per bennett quindi altre segnalo quattro stelle ok quindi andata bene ok 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 perché siamo ritornati praticamente eccolo è uscito adesso che è barbara quindi al nono è uscito barbara ok altro limit break per barbara va bene così ed ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ne mancano due? Forse? Grazie a tutti. 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 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 singole. Dopo 47 singole.